segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e bentornata all'area che tira lucia azzolina ex ministro dell'istruzione ora preside ma in maternità perché ha avuto da poco uno bambino bambino maschietto maschietto leonardo il mio principe blu che però non sentiamo in sottofondo sta dormendo riposando ha mangiato e sta dormendo benissimo quanto a così abbiamo dato tutti dati sensibili dopo domani tre mesi evviva tanti auguri tanti auguri a tutti noi grazie per essere con noi quindi non la faremo arrabbiare così lei non dovrà urlare di conseguenza non dovrà svegliare il il pupo dal suo prezioso preziosissimo sonno ora grazie per essere con noi perché per